Un applauso a Marco Marchiori, in realtà Marco è una delle prime persone che ho incontrato al mio ingresso nella community di Italia nel 2011, era a Padova? 2009 2009, mamma mia come passa il tempo. Allora lui ci parla di un approccio dinamico per la localizzazione, diciamo che siamo tutti allineati, il tema è quello. Sì, va per la maggiore. Marco buon lavoro. Ciao a tutti, sì anch'io gli O2 Days fanno 10, io faccio 15 come tanti altri che hanno parlato oggi. Nonostante questo vorrei concentrarmi in cose che ho fatto negli ultimi sei mesi, condividerle un po' con voi e anche volentieri sentire il vostro feedback. Allora, roadmap, ho scritto roadmap mettendo fra parentesi road perché io penso che per la localizzazione sia utile, questo è il primo contenuto che voglio darvi, sia utile accantonare un po' la metafora della road, cioè la pretesa di un percorso comune e concentrarsi un po' su una map che può essere utile un po' per tutti. L'altro contenuto, un approccio dinamico, forse è un po' una supercazzola però, l'approccio dinamico vuol dire che vorrei insieme ai contenuti di localizzazione cercare di vedere se non possono essere affrontati insieme all'implementazione per vedere se troviamo qualcosa di interessante. questo sono io, partiamo un po' dalla visione tradizionale che abbiamo, cioè si fa una gap analysis, di solito siamo molto bravi a farla e quando abbiamo il prodotto pronto passiamo all'implementazione. Questa cosa è più nella nostra, però du soprattutto, è più nella nostra fantasia che non nella realtà, ormai lo sappiamo. Quindi soprattutto la metafora del prodotto ha qualche problema secondo me, che cominciamo a usarla credo nella fase commerciale delle trattative. Quindi utilizziamo molto la metafora dell'auto. L'auto, credo che ormai da 30 anni per vendere gli ERP si utilizza la metafora dell'auto e si fanno un sacco di analogie. La categoria, che livello è, le comodità, gli optional, il fatto che ci vuole il cruscotto per controllare eccetera. e giriamo la chiave, poi si usa tantissimo per il go live eccetera. Questa metafora secondo me ci dà dei problemi. Sappiamo già che ci sono, non vale per un sacco di casi. Per esempio quando facciamo un mockup, non è che noi abbiamo un sistema legacy che funziona, contemporaneamente abbiamo un sistema che stiamo installando, semplificato. Col parallelo spesso facciamo funzionare i due sistemi e condividiamo i dati prima di partire. Quindi già queste cose ci fanno capire che questa metafora dell'auto e soprattutto anche, sento ripetere anche un grosso professore, questa metafora dell'impresa come viaggiare. Io devo dire che dopo tutti questi anni comincia un po' a viaggiare evitando le buche più dure, è un po' vecchia come metafora. Credo che la vita dell'impresa adesso sia molto più turbolenta e difficile. Ci sarà tempo per cercare delle nuove metafore. Io penso per esempio spesso l'installazione dell'IRP degli andamenti ciclici, quindi potrebbe essere utile usare l'idea della pianta. Poi teniamo presente che l'IRP è un oggetto tecnico, quindi potrebbe anche, tante volte è anche utile studiare la storia dei motori per esempio, dove il motore rispetto all'auto, il motore è molto più finalizzato e l'installazione dell'IRP è qualcosa che spesso ci dimentichiamo che non ci serve per avere delle comodità, anche se spesso le vendiamo, ma ci serve per delle finalità ben precise, un po' come nel motore, nell'evoluzione dei motori, tutti i componenti evolvono rispetto ad una funzione principale scomposta in più sotto funzioni. Andando alla localizzazione, ripetiamo il problema, cioè immaginiamo ancora una volta con l'idea del prodotto, di avere questo prodotto du ideale totalmente localizzato. Che cosa ci serve per arrivare a questo prodotto ideale? Come ci difendiamo noi finora? Allora, noi di fronte a questo problema, come aziende, come community, come implementatori, ci difendiamo producendo in sostanza delle liste. Allora vi ho messo una prima lista simbolica, spesso i partner devono decidere quali moduli ricarichiamo per questa istanza, allora dobbiamo fare una lista di moduli, con distinti per urgenza, eccetera. Poi ho ripreso la famosa lista dei moduli, quella che vedete in mezzo, la lista dei moduli della community italiana, redatta da Marcello per la prima volta, poi col contributo di tutti, quindi con tutte le notizie, con una classificazione e poi alla fine, a destra, vi ho riprodotto un pezzo della lista della spesa che faccio io come implementatore, spesso, quando bisogna dare, tradurre in pratica cosa bisogna fare per l'implementazione, alla fine la lista è utile per vedere in sostanza quante fatture tratti, che tipo di gestione hai, che tipo di volumi hai, eccetera. Le liste quindi sono degli strumenti che conosciamo molto bene, però hanno dei limiti, cioè usare delle liste ha in sé dei limiti. Il primo limite è che la lista di per sé non dà una visione chiara di una priorità. la lista, nella lista per esempio italiana, nella lista della community troviamo libro giornale in posto di bollo, sì, cosa è priorità? Non possiamo dirlo, no? Se non con dei criteri ulteriori. Spesso le liste se sono lunghe creano frustrazione, ok? E questo lo sappiamo tutti. Sono ambigue nella formulazione, cioè mettiamo una cosa in lista però non è che capiamo bene le funzionalità che garantisce, quindi questo potrebbe dare il problema principale che c'è nel rapporto, nell'installazione, che è quello dell'ambiguità. Non danno una misura della qualità e tendono a crescere indefinitamente. Adesso nel 23, sappiamo tutti, ce lo siamo ripetuti, è cambiato il contesto, quindi il prodotto è più maturo, eccetera. Io mi ripromettevo di non lavorare più con le liste e ho avuto in questi sei mesi la fortuna di lavorare sia con partner che collaborare con la filiale italiana, che anche lavorare in installazioni dirette. Alla fine mi chiedono, ma non potresti fornirci una lista? Allora ho reagito come di solito tendono a reagire i consulenti, cioè metterci qualcosa di mio. Ho detto, ma potrei pensare, invece di fare l'ennesima lista in cui anch'io aggiungo delle mie considerazioni del tutto soggettive, ho pensato di fare qualcosa di nuovo e ho pensato anche con delle suggestioni che mi sono venute da alcuni interventi sull'implementazione di Odoo Experience. Non è per caso che il processo di implementazione come sta evolvendo in Odoo, perché ci sono ogni anno delle idee nuove, ci potrebbe aiutare a capire quali sono le cose più interessanti da fare e quindi ho pensato di, di fronte a un'idea vaga che si ha quando si dice contabilità, fiscalità italiana, che per molti che non conoscono in dettaglio l'argomento è una nuvola vaga di cose problematiche. Ho pensato di spacchettare e ho cercato di rispondere alla domanda, ma quali sono le cose che ogni impresa, grande o piccola, bene o male, deve fare? E quindi sono arrivato a trovare questi cinque fasi, funzioni, quindi non funzionalità, ma veramente le funzioni degli obiettivi che io devo raggiungere. Quindi ciascuna impresa deve fare delle transazioni, quindi tutto il problema della fatturazione, ciascuna impresa ha a che fare con le imposte che deve liquidare, dichiarare, versare, ciascuna impresa è dentro un sistema di pagamenti, quindi pagare e incassare le banche, poi c'è il problema delle chiusure, perché bene o male chiunque ha un esercizio che deve chiudere e poi c'è il problema della conservazione. Copre tutte queste cose o due nel modo migliore? No, però noi sappiamo, giusto anche per rispondere alla domanda che faceva Andrea, ma qual è la completezza? La completezza non la possiamo sapere in termini di moduli di funzionalità, ma in termini di funzioni sì, cioè noi sappiamo che ciascuna impresa con cui noi entriamo in contatto queste cinque cose le deve fare. E quindi la mia idea è stata quindi di produrre sì una lista di funzionalità, ma raggruppate sotto queste macrofasi, perché ciascun implementatore sa che deve far funzionare la fatturazione, far funzionare le imposte, far funzionare le banche, arrivare a un certo punto sulla chiusura e poi la conservazione, lo stesso dovrà comunque fornire un input per la conservazione. Quindi molto banalmente questa partizione in cinque può anche essere utilizzata siccome una delle cose più interessanti che noi diciamo che fa Odoo, che ha Odoo rispetto ad altri sistemi, è l'integrazione. Noi possiamo anche creare, questo è un esempio di una matrice di una possibile installazione in cui guardo per ciascuna fase qual è il livello di integrazione, potrei per esempio per la fatturazione averla integrata come ormai praticamente succede in Odoo, ma per esempio la conservazione affidare a un servizio esterno. E per ognuna di queste caselle io riduco l'ambiguità delle cose che faccio, che l'ambiguità è la cosa veramente difficile nelle scelte, riduco l'ambiguità e posso anche quantificare meglio i costi dal mio punto di vista. E poi ultima considerazione sul problema dell'impatto, cioè dobbiamo, visto che Odoo sta crescendo, dobbiamo considerare che noi impatteremo sull'ambiente circostante, mentre la localizzazione finora l'abbiamo vissuta come un impatto dell'ambiente su di noi e su quanti problemi crea l'essere dell'ambiente italiano su di noi. Io credo che una chiave importante sarà nel prossimo futuro invece pensare a un impatto nostro sull'ambiente. E un'osservazione che mi invito a fare è che spesso noi le cose che facciamo in Odoo le mutuiamo da concetti elaborati da altri, spesso i nostri concorrenti, società di software concorrenti. Quindi immaginiamo di fare sempre le cose sui modelli fatti da altri. Siccome Odoo sicuramente avrà un impatto sull'ambiente italiano, dobbiamo pensare quindi a tutte le varie aspetti della localizzazione come farli in modo da essere noi a impattare sull'ambiente. E questo pone anche un problema nostro come imprese, che impatto vogliamo avere come imprese sull'ambiente italiano. perché altrimenti se noi partiamo sempre dal fatto che noi subiamo l'ambiente e quindi siccome c'è un'idea consolidata per esempio di libro cespiti, io devo farlo così. Non è detto che debba farlo così. Non è detto che le norme mi obblighino a fare un libro cespiti come lo dice il commercialista del cliente. E quindi dobbiamo cominciare a pensare di avere la forza di dire come sarà il libro cespiti in Odoo, perché questo è il nostro strumento. E quindi a quest'ultima parte io credo molto, perché credo che alla fine sarà questa che risolve il problema della localizzazione, più che il lavoro che noi mettiamo sulle singole funzionalità. Io finirei qui in modo da darvi modo di farmi eventualmente delle domande. Grazie Marco.